Episodio 11 di Tiki Inter, oggi parliamo finalmente del layout management, quindi come gestire i nostri widget all'interno della finestra per andare a creare un layout che sia ben organizzato e bello da vedere. In realtà sarebbero tre, voi ne vedete qua due di layout management, avremmo pack, place e grid, ve ne ho già parlato. Place non lo vediamo, se lo volete vedere dalla documentazione non è un problema, perché va a, di base, inserire i widget in base ai pixel. Quindi se noi facciamo partire la finestra, avrete qua un widget in base ai pixel, facciamo finta che questo sono 100 pixel, 100 pixel, sarebbe qua e non importa, anzi facciamo magari 500x500 è qua, non importa se io chiudo la finestra, l'elemento andrà fuori. Quindi esattamente come la posizione absolute o fixed di HTML, se conoscete HTML, comunque è una cosa che potete vedere a parte, ma raramente la userete. Quelli che userete di più sono pack e grid, perciò li vediamo, ha senso vederli. Cominciamo con pack, già sappiamo pack cosa fa, però cominciamo, allora voglio creare delle label e li facciamo diventare dei quadrati, perciò potremmo farli diventare dei box. Quindi box1 oppure label1 è uguale ad una label, perfetto, al cui ci associamo a root, ok? Mettiamo un text di label1, mettiamo magari un background green e un foreground, eccolo qua, figi oppure foreground, mettiamo white, così si vede. E cosa andiamo a fare subito sotto? Andiamo a fare un bel label1.pack, salviamo, vediamo un po' il risultato. E fin qua niente di incredibile, ok? Sappiamo come fare pack per mandare a schermo la roba. Vi ho parlato dei vari padding, quindi abbiamo padding interno e padding esterno. Allora cominciamo a parlare di pad, vedete c'è pad e poi c'è ipad, che non è il tablet. Allora pad x, pad x e pad y è il padding al di fuori dell'elemento e adesso lo vedrete. Allora 10, poi pad y 10. Io invio, vediamo un po'. Vedete che l'interno è ancora tutto ammassato, perfetto, ma si è staccata un po', vi faccio rivedere. Proviamo a mettere pad y 50, vedete quanto si abbasserà la label, quindi pad y 50, salvo, vediamo un po'. Perfetto, vedete quindi il padding normale, quindi pad x e pad y, il padding sia in verticale che in orizzontale, è la distanza dell'elemento dal container, in questo caso dallo spazio che gli viene assegnato all'interno della finestra, ok? Mentre invece ipad x e y è il padding interno, vi faccio vedere, ipad mettiamo 10 e poi ipad y mettiamo 10. Adesso vedrete un po' la differenza. Perfetto, vedete che si è ingrandita la label, quindi il padding interno è lo spazio tra il bordo dell'elemento e il suo contenuto. Mentre invece il padding normale è quello che sarebbe magari il margine in html, quindi qua fuori sarebbe il margine tra l'elemento e il resto, il padding è lo spazio interno. Qua su tkinter è padding esterno, senza la e, e padding interno con la i, quindi pad x, pad y. Perfetto, quindi abbiamo visto questo. Cosa possiamo andare a fare? Possiamo aggiungere un'altra label intanto, quindi nessuno ci vieta di letteralmente copiare. Vediamo un po', mettiamo 2, lasciamo magari un pad interno di 10-10 su entrambi. Facciamo così, facciamo così, questa chiamiamo label 2, la mettiamo red e il risultato al momento è il seguente. Vedete? Perfetto, quindi abbiamo fatto il pack. In questo caso il pack è sempre in verticale, quindi come potete vedere se io aggiungo roba andrà sempre sotto in verticale. Ora, cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare la proprietà fill che abbiamo già visto. La proprietà fill ci permette di andare a fillare, ovvero di riempire la lunghezza del nostro widget per lo spazio che abbiamo a disposizione. Quindi se io vado qua e faccio un bel fill x, guardate un po', l'abbiamo già visto negli episodi precedenti, ecco qua, vedete? Ho riempito tutto lo spazio a disposizione, x è orizzontale, y è sempre in verticale. Per logica uno potrebbe dire, beh, allora io metto y e lo riempio in verticale. Attenzione però, non succede niente. Perché? Perché lo spazio che viene assegnato in questo caso è semplicemente questo. Quando abbiamo visto i frame, avete visto che poi il frame si adattava all'altezza del widget. Quindi questo è lo spazio che gli viene assegnato. Io non posso andare a dargli più spazio al momento, perché non ce n'è. Questo è lo spazio che gli viene assegnato e anche questo, non c'è altro. Ora, se invece tolgo fill e metto expand, guardate come cambia la situazione. Expand true, attenzione. Gli stiamo dicendo, guarda, sono solo due elementi, vedete? Quindi questo è tutto lo spazio del primo e questo è tutto lo spazio del secondo. Gli sto dicendo, guarda, c'è dello spazio in più, perché prima, vi ricordate che prima questo era in alto e l'able 2 era esattamente sotto. C'era tanto spazio bianco sotto che non era assegnato. Nel momento in cui volete expand, gli stai dicendo, guarda, assegnagli più spazio. In questo caso ci sono solo due widget, perciò tutta la finestra viene assegnata a due widget. Adesso sì che noi possiamo andare a fare fill y, altrimenti quello che possiamo fare direttamente è fill both, se volete entrambe le direzioni che è fill x e y e se noi rilanciamo il risultato è il seguente. Vedete? Quindi abbiamo detto con expand associ più spazio e dopo con fill questo spazio lo vai a riempire. Però vedete che è molto schiacciato qua, quindi cosa potremmo fare per dare uno spazio eco a entrambi i bottoni? Ci basta fare così, expand true qua e se io rilancio, vedete, abbiamo 50% e 50%, ma la label 1 ha preso tutto lo spazio a disposizione, mentre la label 2 è rimasta esattamente al centro. Ora andiamo a riempirli entrambi con fill both e il risultato chiaramente sarà una divisione 50 e 50 in verticale. Eccola qua, molto bene, vedete, a prescindere dalla lunghezza, vedete, mantiene sempre 50 e 50. Ma se io li volessi da una parte e dall'altra, quindi allineati orizzontalmente anziché verticalmente, è molto facile, possiamo utilizzare quello che è side, eccolo qua, vedete, side, lo possiamo mettere come left, ok, right, oppure dovrebbe essere top e bottom. In questo caso andiamo a mettere side left, salviamo, oppure anziché così potete fare, vediamo un po', left, perfetto, ve lo prende, vediamo se ci prende top, ok, c'è anche top, quindi left, io salvo, forse è meglio metterlo a questo qua, side left, vediamo un po', avete visto? Quindi l'abbiamo messo al primo qua per degli side left e vedete che è diventato orizzontale. Se vado a prendere il primo e gli dico right, guardate un po', si sono invertiti, ok? Quindi va a prendere più spazio lui. Ora, se vogliamo far prendere più spazio anche all'altro, gli andiamo a dire anche lui un side, vediamo un po', e vedete che dando il side ad entrambi, come potete ben notare, si va a prendere anche lui il 50% di spazio. Se vogliamo riportarlo come davanti verde e dietro rosso, ci basta invertire qua così, e vedete che gli ordini sono esattamente uguali, 50 e 50. Quindi giochicchiate un po', ma vedete come possiamo andare ad utilizzare pack per creare delle zone. Voi pensate se questa zona non fosse una label, ma fosse un frame, quindi potete mettere i frame destra e sinistra, potete dare più spazio a uno e meno spazio all'altro, e avete il vostro, magari, la vostra side nav qua laterale come su Visual Studio, e poi il vostro spazio di lavoro, vedete? Una cosa del genere. Quindi divertitevi a utilizzare pack e a mettere sopra, sotto, destra e sinistra. Ora, sappiate che potete fare roba un po' più complessa, vediamola magari. Potremmo fare, qua togliamo e mettiamo fill x, benissimo. Copiamo anche qua, possiamo farne una terza se vogliamo. Qui ne abbiamo un, due, tre, benissimo. Label tre, mettiamo qua il blu, salviamo, vediamo il risultato per ora. Benissimo, tre qua come potete vedere. Adesso quello che vogliamo sotto è la divisione in tre, in orizzontale, perciò facciamola. Andiamo a creare altre tre label, quindi vi basta copiare e incollare, così. E andiamo a mettere quattro, cinque e sei. Sei, quattro, oh scusatemi. Cinque, quattro. E qua mettiamo purple, yellow, orange. E ciò che vogliamo fare per queste tre è innanzitutto fill both, expand true, e poi vogliamo andare a mettere side left. Se noi copiamo tutto, copiamo qua da both, tac tac, tac tac, vediamo il risultato. Mi sono dimenticato di mandare a schermo queste. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, perfetto. Salvo, tac, perfetto. Vedete come abbiamo creato tre sezioni che occupano tutta la lunghezza e tre sezioni che occupano tutta l'altezza disponibile. Vedete? Se questi qua fossero dei frame, ripeto, qua dentro potete tranquillamente mettere dei widget e avere le vostre zone ben separate all'interno dell'applicazione. Vedete? Quindi il mio consiglio è cominciate a giocare e dividetevi. Potete utilizzare le label se volete cominciare così, ma poi provate anche con i frame a provare a dividere quella che è la finestra dell'applicazione, e cercare di fare qualche layout che avete in mente appunto per un programma con Tiki Inter. Benissimo, abbiamo parlato di pack. Questo video sarà abbastanza lunghino, noi possiamo togliere tutto e andiamo a parlare di grid. Quindi per parlare di grid dobbiamo chiederci che cos'è una grid. Beh, una grid è semplicemente una griglia, ok? Quindi noi vogliamo andare a definire una griglia e utilizzare la griglia per dire, ok, mi metti questo frame o questo widget che si ha in posizione 0-0, quindi prima riga, prima colonna, poi me lo metti in 0-1, poi me lo metti in 1-0, poi me lo metti in 1-1. Quindi capite? Vogliamo andare a dire me lo metti qua, 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 qua. Va bene? Mentre invece con pack va semplicemente ad accodare. Accoda in verticale o in orizzontale in base a quello che gli diciamo, però va sempre ad accodare. Mentre invece la griglia, abbiamo una griglia e dentro diciamo me lo metti qua, piuttosto che qua, piuttosto che qua, piuttosto che qua, ok? Quindi cominciamo e vogliamo andare a configurare la nostra griglia. Vedete qua column figure, possiamo anche utilizzare row, row configure, ma noi utilizziamo al momento solo column configure. Benissimo. E gli vogliamo dire, guarda, l'id, l'indice della prima colonna è lo 0 chiaramente e il peso, weight, è 1, va bene? Quindi di base utilizziamo sempre 1, se volete una colonna che è il doppio di questa e ne creiamo un'altra, quindi la seconda colonna avrà indice 1, ma il peso sarà 2, va bene? Quindi utilizzate questo principio, se volete una colonna che è 5 volte questa, 5, va bene? Noi ne creiamo 2, così, molto bene. Non andiamo a configurare le row perché al momento non ci servono, ma ciò che vogliamo fare è cominciare a creare dei frame. Quindi voglio creare 4 frame, perciò frame 1 uguale frame e voglio definirlo chiaramente in root. Voglio dargli un background rosso. Diamogli magari un'altezza al momento così poi potete eventualmente allargarlo in base alla colonna e vedi scorrendo, però voglio solo spiegarvi la grid, ok? Quindi height 200, width 200. Ok, dovremmo essere a posto. Andiamo a duplicare il tutto, benissimo, quindi frame 2, frame 3, frame 4, quindi background red, background purple e poi abbiamo yellow e mettiamo un bel ciano. Dovrebbe esistere. Ora, quello che vogliamo andare a fare è piazzare questi frame, quindi frame 1, noi sapevamo fare pack, in realtà andiamo a fare grid, ok? E cosa gli diciamo? Guarda, me lo metti sulla colonna 0, quindi la prima, e sulla riga 0, va bene? Vediamo un po' il risultato, cominciamo subito. Vedete la posizione? Adesso non vi dice niente, però ve li faccio vedere passo passo in modo che vi rendete conto. Frame 2, lo vogliamo sulla stessa riga, quindi riga 0, ma sulla seconda colonna. Perfetto, quindi ci mettiamo qua, facciamo così, benissimo, vedete? Colonna diversa, colonna 0, colonna 1, riga 0, quindi la prima riga. Ora, se noi volessimo metterlo qua sotto, provate a indovinare, è colonna 0, riga 1, benissimo, spero abbiate indovinato. Quindi frame 2, scusatemi, frame 3, uguale colonna 0, riga 1, io salvo. Risultato? Benissimo, ok? E adesso andiamo a metterlo qua, perciò ci aspettiamo colonna 1, riga 1. Noi copiamo, mettiamo il frame 4 e mettiamo 1, 1, facciamo così, tac, e vedete che otteniamo questo bellissimo risultato. Chiaramente lo spazio, vedete, c'è questo spazio qua che arriva fino qua al centro, quindi al momento non ho riempito tutto lo spazio disponibile, vedete? Perché ho messo dimensioni fisse 200x200. Chiaramente potete far assumere lo spazio necessario di cui avete bisogno, non è un problema, ma vedete bene che abbiamo la possibilità di andare a creare la nostra applicazione come se fosse una griglia. E non è finita qua, perché che cosa possiamo fare in realtà? Possiamo anche utilizzare quelle che si chiamano col span, vedete qua, col span e row span. Se arrivate da HTML, esistono anche nelle tabelle HTML, ma di base cosa fanno? Torniamo un attimo alla situazione così, benissimo. Facciamo invio. Se vi ricordate, pochi minuti fa, con pack, abbiamo creato 3 widget che si allargavano in orizzontale e 3 sotto in verticale. Ora, come potremmo raggiungere il fatto di voler magari due colonne qua in alto e magari una sola qua sotto, quindi solo quella gialla? Oppure solo una colonna qua e due colonne qua, quindi due celle così? Pensate se avete lavorato con Excel o con HTML di andare a unire le celle, quindi diciamo qua c'è 00, 01, 01, 01, 01. Ma diciamo, guarda, questa colonna qua mi prendi questa cella e questa cella, quindi queste due diventano entrambe rosse. È un concetto che, se non lo sapete, adesso ve lo dimostro, ma se fate fatica, prendete Google Sheets o Excel e provate a fare uniscicelle e capite esattamente quello di cui sto parlando. Perché è veramente semplice, adesso ve lo dimostro, ma se non lo capite utilizzate quel tipo di programma perché sono fatti letteralmente a celle e rende assolutamente l'idea. Quindi vogliamo andare a prenderci più spazio su un'altra cella. Ora, per prenderci lo spazio, innanzitutto non dobbiamo avere una cella, perché poi vi dimostro cosa succede se non la togliamo, ma vogliamo dire al frame 1, eccolo qua, row span d2. Quindi esci e mi prendi anche un'altra cella, perciò salviamo. Vediamo il risultato. Vedete che si è abbassato, non si è rimpicciolito, semplicemente è nascosto da questo, quindi vedete che dobbiamo togliere il giallo al momento. Quindi il giallo è il 3, non lo vogliamo più. Facciamo invio e vedete, chiaramente io non sto occupando tutto lo spazio che ho a disposizione, ve l'ho già detto, ma come potete già intuire, vedete che qua abbiamo le due righe separate. Qua invece sono andato a prendermele perché row span va a fondere insieme delle righe. Perciò ho detto, guarda che il rosso mi occupa sia questa, scusate lo faccio di qua, mi occupa sia questa che questa. E vedete che chiaramente essendo più piccola si è centrata, va bene? Però le ha prese entrambe. Allo stesso modo potrei andare ad occupare più colonne. Quindi anziché row span mettiamo column span d2. Dobbiamo togliere quindi questa qua che è la seconda, vediamo un po'. E vedete che sono andato a prendermi di base tutta la parte sopra. Quindi riga 1, riga 2, qua ci sono due colonne ben distinte, qua invece le ho unite. Capite che potete perciò fare tante cose, andiamo a vedere in base a Visual Studio. Qua cosa potrebbe essere? Qua abbiamo due righe come potete vedere, una e due, ok? Però qua abbiamo 1, 2, 3 colonne. Questa colonna qua innanzitutto hanno weight diversi, potrebbe essere weight 1, weight 3, weight 150.000. In base a questo quante volte si ripete, probabilmente una ventina. Quindi a prescindere dal weight lo vedete questo qua. Ma dentro il frame hanno background diversi, grigio, nero carbone, nero un po' più scuro. Non le conosco le varie sfumature di nero, perdonatemi per i nomi che gli ho dato. Però vedete che il columns pen qua va a occupare tutte le due celle, perché sarebbero una e due. Però questo lo occupa tutto, perciò potrebbe essere un rows pen, come abbiamo appena visto, di due. Anche questo è un rows pen di due, mentre invece questa cella è ok, questa cella è ok. Capite bene quindi come potete utilizzare la griglia se guardate Visual Studio, perché questa è effettivamente una griglia. 1, 2, 3, 4. Sono quattro celle, se noi le dividessimo tutte in due avremmo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Spero di aver reso l'idea. Fate un po' di pratica, perché potrebbe non essere intuitivo lavorare per griglia. Però questo è un'introduzione al layout management. Direi che noi nel prossimo video dovremo andare a vedere le list box, se mi ricordo bene. Sotto in descrizione trovate il link al mio secondo canale, al sito e i modi per supportare il canale. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!